Sono state riammesse le liste centriste di Udc, Dc e noi moderati in corsa con Marco Marsilio Presidente alle prossime regionali del 10 marzo, sia all'Aquila che a Teramo. Le liste erano state inizialmente escluse per ricorsi legati alla titolarità del simbolo dello scudo cruciato a livello nazionale, mentre a livello locale i rapporti tra rappresentanti dei partiti sono sempre stati buoni. Al Tribunale dell'Aquila c'era l'Avvocato Galuppi che ha seguito per conto della DC nazionale. I ricorsi erano partiti da Roma al momento del deposito dei simboli e nelle sole circoscrizioni provinciali dell'Aquila e Teramo c'era stato lo stop in tribunale al momento del loro deposito. Questa mattina al Tribunale dell'Aquila e parallelamente a Teramo le liste oggetto di osservazione sono state riammesse dopo la presentazione delle memorie presentate dai responsabili dei partiti. Nel caso Aquilano è stata protagonista l'Udc di Cesa che ha presentato la lista con la DC di Rotondi che aveva presentato ricorso contro gli ex alleati di noi moderati per l'uso da parte loro del simbolo creato per le politiche del 2019 quando correvano insieme. Ma l'Udc a sua volta è stato oggetto di un ricorso da parte di una delle sigle che rivendicano la proprietà della scritta di C, sotto osservazione quindi all'Aquila e Teramo, anche qui con un lieto fine. La novità è pertanto che per la prima volta Rotondi e Cesa corrono con il vecchio simbolo e con il nome della democrazia cristiana. Restano pertanto sei liste in competizione nelle quattro circoscrizioni a sostegno di Marco Marsilio, lo stesso numero di quelle della coalizione di Luciano D'Amico. La campagna elettorale adesso può partire a tutti gli effetti anche dal punto di vista legale.